Sarà sicuramente capitato anche a voi di preparare una ricetta e di accorgervi che vi manca un ingrediente. Magari è domenica mattina, non potete comprare, che ne so, la panna per il vostro fior di latte, vi è rimasto nel frigo solo del burro e vi state chiedendo come fare a sostituire la panna con del burro per ottenere lo stesso risultato da un punto di vista tecnico. Lasciamo stare il gusto che chiaramente avrà una leggera differenza. Vediamo insieme qual è il procedimento più semplice da adottare. Quello di oggi è un video veramente tecnico, dove si parla di una parte del bilanciamento, di come riuscire a sostituire un ingrediente attraverso la conoscenza delle sue componenti interne. La cosa migliore è lavorare con delle tabelle sotto mano. Ad esempio utilizzando questo bellissimo manuale, all'interno del quale ci sono appunto delle tabelle dove sono segnati tutti i componenti interni degli ingredienti che si usano normalmente in gelateria. Attraverso questa tabella siamo in grado di capire, quando dobbiamo sostituire un ingrediente, quali sono le caratteristiche dell'ingrediente sostitutivo. Facciamo un esempio pratico in modo tale da essere molto più chiari. Intanto vediamo qui dei parametri di bilanciamento medi di un gelato a base latte. La nostra ricetta sulla quale andremo a lavorare è quella che potete trovare all'interno del libro. I parametri di bilanciamento li vedete in questa slide e si tratta naturalmente di un esempio. A qualcuno potrebbe piacere più o meno dolce, più o meno grassa, con più o meno solidi. Diciamo che questa è una ricetta di partenza, di base, sulla quale possiamo fare questo esercizio. Nel momento in cui questa ricetta la inseriamo in un foglio di calcolo, ad esempio un Excel va benissimo, per controllarne appunto il bilanciamento, ci risulterà più chiaro quali sono gli elementi costitutivi di ciascuno degli ingredienti che vedete in questa tabella. Ad esempio, 600 grammi di latte intero ci apportano 21 grammi di grasso, perché corrisponde al 3,5%. 160 grammi di panna ci apportano invece 56 grammi di grasso, che corrispondono al 35%. E via così con tutti gli altri ingredienti. Oggi dobbiamo fare attenzione proprio all'apporto della panna. Se noi sostituiamo la panna, vedete che oltre al grasso ci sono anche degli altri elementi. Ci sono dei magri del latte e c'è una certa quantità di acqua anche. Quindi dobbiamo valutare bene l'ingrediente sostitutivo, in modo tale da riuscire poi a equilibrare anche gli altri elementi mancanti. Quindi non basta semplicemente sostituire 160 grammi con del burro. Intanto bisogna capire quanto burro. Non possiamo certo metterne 160 grammi, perché il burro ha una quantità di grasso ben superiore a quello della panna. Quindi andiamo per gradi. Seguendo la tabella merceologica, possiamo vedere che la panna contiene il 35% di grassi, il 6% di magri del latte, all'interno del quale è nascosto il lattosio e le proteine e dei sali minerali, e poi un 59% che è acqua. Mentre se andiamo a vedere la tabella merceologica del burro comune, non sto parlando del burro anidro che si utilizza spesso in gelateria e in pasticceria, ma il burro normale contiene mediamente l'82% di grassi, un 2% di magri del latte e il resto, 16%, è acqua. Partiamo quindi con la necessità più importante, cioè perché noi inseriamo la panna nel nostro fior di latte? Per un apporto principalmente di materia grassa. Se la panna ci apporta 56 grammi di grasso, dovremmo trovare la quantità di burro che apporta la stessa quantità di grasso. Allora, per fare questo abbiamo bisogno di fare un po' di matematica, ma è un'operazione abbastanza semplice. Noi dobbiamo dividere questi 56 grammi per la percentuale di grasso che contiene il burro. Quindi dovremmo fare 56 diviso 82 per 100. A questo punto otterremo un numero superiore a 56, perché include anche gli altri elementi oltre al grasso che sono contenuti appunto nel burro. Stiamo lavorando su una ricetta da un chilo, quindi non andiamo a pesare con precisione anche le virgole dei grammi. Arrotonderemo un pochettino. In questo caso, anziché aggiungere 68,3 grammi, ne aggiungeremo solo 68. Ci saranno delle piccole imprecisioni, ma ci serve per capire come funziona il calcolo. Nei 68 grammi di burro vediamo quanto grasso effettivamente abbiamo e lì possiamo anche mettere le virgole nella nostra tabella di controllo. Dobbiamo controllare anche quanti magri del latte ci sono e quindi quanta acqua. Una volta che abbiamo scritto tutto, allora possiamo controllare che cosa ci manca per arrivare a un bilanciamento simile a quello di partenza. Intanto facendo i calcoli della colonna ci possiamo rendere conto che mancano 8,3 grammi di magri del latte. E come possiamo integrarli? Beh, la cosa più facile è integrarli con il latte magro in polvere, visto che è composto dal 97% di magri del latte, che ricordo ancora sono composti da lattosio, proteine del latte e sali minerali contenuti nel latte e nella panna. Detto questo facciamo la stessa operazione di prima, cioè per ottenere 8,3 grammi di magri del latte dobbiamo dividere per la percentuale contenuta all'interno del latte magro in polvere, quindi diviso 97%, otterremo 8,6 che arrotondiamo per eccesso a 9. Quindi nella nostra ricetta a questo punto il latte magro in polvere diventa 55 grammi, quindi ricalcoliamo all'interno della tabella quanti magri del latte e quanta acqua abbiamo aggiunto. La ricetta però non è finita, perché se voi fate il calcolo mancano ancora 83 grammi per arrivare a 1000. E che cosa sono questi grammi? E' l'acqua che era contenuta all'interno della panna e che noi possiamo aggiungere utilizzando proprio l'acqua. Facendo il calcolo di tutti i dati vedrete che ci siamo allineati a quella che era la ricetta di partenza. Ripeto, questo esempio serve solo per capire come fare. Ad esempio se dovete utilizzare il burro anidro oppure l'olio di cocco dovete considerare quanto grasso è contenuto in quel prodotto che state utilizzando. Chi vi dice queste indicazioni? A parte le tabelle che trovate sul libro o anche su internet, ma i dati più sicuri e più certi sono quelli delle schede tecniche dei prodotti oppure dei valori nutrizionali delle etichette dei prodotti che avete acquistato, sia che sia burro, sia che sia olio o altri ingredienti. Mi auguro di esservi stato d'aiuto. Alla prossima!